benvenuti al museo civico di bormio ci troviamo nella stua che raccoglie gli ex voto provenienti dalla chiesa del santo crocifisso di combo sono dipinti semplici di comprensione immediata finalizzati al ringraziamento al santo crocifisso di combo per l'aiuto concesso in un momento di difficoltà ecco allora una donna rivolgersi a cristo per ottenere una grazia in modo spontaneo si propone la quotidianità di un tempo la vita sociale la fede il costume sono descritti gli interni delle case e gli abiti indossati dai graziati spesso è ritratto l'evento che ha scatenato la richiesta d'aiuto come nel caso dell'uomo attaccato dal dorso talvolta compare una sigla una data o la spiegazione del conseguimento della grazia in generale propongono una forma d'arte che ignora le regole tecniche ma che si impone per chiarezza e genuinità raffigurano anche malattie e incidenti una slitta che travolge un uomo o un carro che rovescia il suo carico sulla schiena del conducente la collezione conta decine di tavole alcune dipinte dai graziati altre da botteghe specializzate ma tutte accomunate dallo stesso desiderio di gratitudine verso la vergine e il santo crocifisso di combo che da secoli vigila sulla popolazione di grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti